Mirare, puntare, fuoco. Sono pronta. Tranquilli, state attenti e non mollate mai. Mi chiamo Raith e abbiamo un lavoro da fare. Questo è il tuo campione. Io sono un diamante e voi dei miseri sassi. Sono la Jumpmaster, per questa volta. Atterriamo qui. Siete ancora in tempo, se volete fuggire. Ok. Non mi sembra una buona idea. Atterriamo qui. Ok. Capito. In discesa, tenete duro. Andiamo da quest'ultimo, se il faglio è laggiù. Andiamo da quest'ultimo, se il faglio è laggiù. Andiamo da quest'ultimo. Concentriamoci. Ricarico. Nuovo leader uccisione. Fate attenzione. Un'altra squadra eliminata. Un'altra squadra eliminata. Drone di guarigione, se ne hai bisogno. Faccio una pausa. Devo darmi una sistemata. Sto arrivando. Attivo lo scudo. Andrà tutto bene. Sto sparando. Divituata. Devo agire in fretta. Buono. Sto poi, se il faglio è laggiù. No. Ricari così. Quello è la domanda. Campione fuorigioco. Sei il leader uccisione. Qualcuno sta cercando di dare il meglio. Mi piace. Mi serve uno scudo corporeo. Faccio una pausa. Devo darmi una sistemata. Qui c'è un accelerante ultimate. Qui c'è un kiperico. Attenzione Drone di guarigione, se mi hai bisogno Mi serve un'arma 45 secondi L'anello non è vicino, in marcia No potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte attenzione l'anello si sta muovendo abbiamo un cargo bot laggiù speriamo qui c'è uno stabilizzatore canna livello 4 attenzione l'anello si sta muovendo Caricatore pesante e steso. Potrebbe farmi comodo. Potrebbe esserci del bottino laggiù. Do un'occhiata. Qui c'è una Spitfire. Drone di guarigione, se mi hai bisogno. Sto chiamando una capsula assistenza. Qui c'è un accelerante ultimate. Qui c'è un'ottica. Cecchino. Qui ci sono munizioni aereotetiche. Potrebbe farmi comodo. Spero che ci sia un bel bottino laggiù. Vado. Sono dietro di te. Esploriamo da questa parte. Potrebbe esserci qualcosa di buono. Contatto con il nemico. Bersaglio individuato. Fuoco. Sto ricaricando. Contatto con il nemico. Buon vino. 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 Sei del loro mirino? Sto ricaricando gli scudi Ricarico Nemico avvicino Ricarico Un altro Devo ricaricare i miei scudi Un minuto Mi curo Copritemi Qui c'ho la cassa della morte Qui c'ho la scuolino Tranquilli L'anello è vicino 45 Individuata Devo agire in fretta Ascoltate Sono sotto giro Mi curo da un po' Sì Mi stanno sparando Spostamento Quello era l'ultimo Mandano altri due squadre Bel lavoro Nuovo leader uccisione Faccio una pausa Devo darmi una sistemata Dieci secondi L'anello è lì davanti Scudo evo qui Livello 3 Ricarica scudi In corso Mi curo Copritemi Capsula Sì Mi sto curando Mi curo Copritemi Qui c'è uno scudo corporeo Livello 4 Round 4 Inizio contro La rovescia Andiamo da questo Sto stabilendo un contatto con il nemico Capito Lì c'è una capsula Assistenza Sembra che questa zona sia stata compromessa Qui c'è una porta chiusa Guardate È rimasta solo una squadra Ok Lasciottella Arche 10 secondi No andiamo in grado ricarica scudo in corso andiamo a scudo in corso vai 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 ascolta scudo in corso siete i campioni grazie a tutti